Era diventata una tale abitudine che i volontari del Comitato Salviamo l'Orso avevano pensato di distribuire una sorta di decalogo comportamentale in caso di avvistamento. Parliamo di Juan Carrito, ovviamente, figlio dell'Orsa Amarena. L'impertinente orso Bruno Marsicano è comparso più di una volta nelle strade di alcuni paesi dell'Aquilano, ma è diventato ancora più famoso dopo l'assalto ad una pasticceria di Roccaraso. Tutti noi, sorridendo, abbiamo pensato a quel tenero ghiottone di yogi, ma questa è vita vera, mica un cartone animato, e per quanto Juan Carrito sia bello da vedere alla giusta distanza, un centro urbano non è il suo posto. Per questo ieri il personale tecnico-scientifico e veterinario dei parchi nazionale da Bruzzo Lazio e Molise e Maiella, in collaborazione con i carabinieri forestali, ha deciso di trasferire a Juan Carrito in un luogo più consono, un'area naturale e isolata all'interno dello stesso parco. La traslocazione dell'orso Carrito si è resa necessaria perché ormai da quasi più di un mese l'animale frequentava esclusivamente il centro abitante di Roccaraso e le zone limitrofe, dove riusciva a trovare tanto cibo di origine antropica, vuoi nei cassonetti, ma anche altro cibo che comunque qualcuno ha continuato a lasciare in giro per le aree circostanti il paese. Questo era diventato un problema sia per la tutela dell'orso sia per ovviamente la pubblica incolumità, problema che sarebbe cresciuto in maniera esponenziale con l'arrivo dei tanti turisti, visto che Roccaraso ha il comprensorio sciistico più grande di tutto l'Appennino e quindi da questo punto di vista è chiaro che la preoccupazione è assolutamente legittima. La traslocazione serve anche a portare Carrito in montagna sperando che trovi un posto dove passare l'inverno. Ovviamente noi come sistema dovremo essere bravi ad assicurare, a creare, a fare in modo a trasformare le aree esterne, anche quelle esterne ai parchi nazionali, a renderle più a misura d'orso perché evidentemente non lo sono, visto i problemi di fronte ai quali Carrito ci ha messo in questi mesi e quindi le criticità evidenziate da Carrito devono diventare, dobbiamo essere bravi a trasformarle in un punto di forza e per fare in modo che lì dove Carrito dovesse tornare o altri orsi dovessero comunque espandersi dal territorio, dall'area sorgente del Parco Nazionale d'Abruzzo, possano trovare condizioni chiaramente meno problematiche e più idonee alla loro vita e alla conservazione della popolazione. Roccaraso intanto vive sentimenti contrastanti. Da una parte tira un sospiro di sollievo perché certo incontrare un orso per strada non è esattamente rassicurante. Dall'altra però già sente la mancanza di Carrito che ha fatto diventare la cittadina scistica ancora più famosa nel mondo. Persino la titolare della pasticceria, da noi ascoltata al telefono, ammette di avere un pochino di nostalgia di Carrito. Siamo sicuri che tornerà, dice, al punto che chissà per la prossima scorpacciata potrebbe trovare in teglia non più le lingue di gatto ma degli orsacchiotti di pasta frolla.